Abbiamo Deo, Dipartimento Emergenza e Urgenza, è la nostra sigla, e Charlie, che è il codice dell'automedica. Si chiamano Charlie e Deo e sono i nuovi arrivati alla centrale operativa del 118 di Arezzo. Sono due operatori speciali a quattro zampe. I due cagnolini sono stati infatti recentemente adottati dalla centrale operativa. È un'adozione del cuore, diciamo, ma soprattutto è un pet therapy anche per gli operatori, perché qui si vive di stress piuttosto pesante e avere questi canini ha veramente allentato le tensioni. Tutti collaborano, tutti fanno qualcosa. Abbiamo un libro delle consegne, abbiamo un salvadanaio comune dove ognuno di noi mette un soldino per le loro necessità. Niente, sono i nostri ormai. La strada di questi due cuccioli è una storia triste con un lieto fine, però. Sì, ha un lieto fine, però è una storia sicuramente triste, come al canile. Ce ne sono tantissimi canini abbandonati. L'hanno trovati insieme, erano nello stesso box e il nostro direttore, quando è andato al canile, ha deciso prendiamoli insieme, non possiamo separarli. Infatti uno vive per l'altro. Se uno si muove, si muove anche l'altro. Sono veramente una bella coppia. Girano per la centrale, ci vengono dietro, stanno anche abbastanza fuori. Stanno abbastanza fuori perché ognuno di noi a turno li portiamo fuori. Quindi non è che neanche sporcano in centrale, perché ormai, a parte il primo momento di marcatura del territorio, che è durato un giorno forse, dopodiché hanno veramente preso ottime abitudini. I cani sono metodici, quindi gli abbiamo insegnato qual è l'ora di mangiare, qual è l'ora per uscire. E sono veramente uno spettacolo.